ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale buon sabato a tutti quanti voi insomma ragazzi il mercato anche sto fine settimana pare che non abbia intenzione di riposare tutt'altro ci sono alcune operazioni che stanno per arrivare a conclusione quindi parliamo un po di questo e delle mie sensazioni poi le cose ragazzi cambiano giorno per giorno è veramente incredibile quanto sia instabile il racconto mercattaro nel 2022 mentre gli anni scorsi c'era più una programmazione decisa continua coerente nel 2022 già da qualche sessione in realtà troviamo sempre delle situazioni instabili c'è dell'incoerenza anche nel racconto e noi che siamo tifosi che ci mettiamo la faccia a raccontare il mercato e stiamo sempre attenti a non pestare la buccia di banane non raccontarvi fandoni e però sapete che non dipende da noi ci limitiamo al commento delle notizie prima di iniziare ragazzi vi invito ovviamente iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto cliccate sulla campanella delle notifiche in modo da ricevere così ogni qualvolta carico il video la notifichetta colpo gobbo ha fatto sto nuovo video perché questi saranno giorni caldi oltre che di temperatura anche sul piano ovviamente mercataro allora intanto vi faccio i complimenti perché nell'ultimo video dove ho snocciolato alcune statistiche alcune mie visioni sul difensore c'è stato veramente secondo me un bel una bella discussione sotto nei commenti e apprezzo tanto oggi ragazzi snocciolando un pochettino le notizie di oggi sull'app one football app che vi invito a scaricare sono rimasto sorpreso un po' sulla sulla incoerenza della notizia bremer su diversi fronti e vi dico le mie sensazioni la mia sensazione intanto è questa partiamo da più lontano dalla cosa che ci tocca più da vicino ma thais delict qual è la situazione rimane o non rimane questo è un dubbio amletico però c'è una situazione che potrebbe sbloccare potrebbe dare un'accelerata alla conclusione di questa di questa di questa trattativa il bayern sta per cedere lewandowski una cifra vicina ai 50 milioni al barcellona questo tesoretto porterà sicuramente il bayern a una controffensiva con un'offerta differente dalla prima che è stata fatta che era veramente ridicola un 60 più 10 la juve ha detto no la base deve essere 80 più i bonus quindi per un totale per arrivare a 90 milioni 90 milioni ritenuta per la juventus e per i dirigenti una cifra congrua a far sì che il ragazzo vada a monaco di baviera questo è quello che emerge dal dal racconto la juventus su che andrà eventualmente come sostituti su bremer la stampa si spacca la juve in contatto con bremer tuttavia rimane in grosso vantaggio l'inter per alcuni marco guidi che un giornalista della gazzetta che ha avuto il piacere di conoscere durante insomma il mio vlog all'arrivo di pogba di maria algei medical eccetera racconta invece che c'è un testa a testa c'è le notizie sono un poco chiare su questo aspetto io credo che alla fine la prima squadra che cederà o screener barra dell'ict velocizzerà insomma l'iter per prendere eventualmente bremer però su bremer bisogna anche far leva sulla volontà del ragazzo che a quanto pare già da dicembre la volontà è quella di andare a vestire la casacca nera azzurra questo è quello che emerge dal dal racconto quindi bremer è una situazione complicata su pau torres ve l'ho detto c'è il gradimento totale da parte della della juventus nei confronti di questo di questo ragazzo mancino se ne parla un gran bene anche dal punto di vista professionale perché un suo ex allenatore ha rilasciato un'intervista a mirco di natale il buon mircone che a questi contatti riesce sempre a trovare delle cose molto interessante mi piace come lavora perché lavora sui fianchi della notizia con dei particolari dettagli che rendono più ricco il calciomercato e ha parlato appunto di questo questo allenatore ha detto che pau torres un giocatore che potrebbe giocare ovunque secondo questo ex allenatore in serie a farebbe secondo lui molto molto bene e che è un giocatore è una persona veramente ottima un ottimo professionista allora io credo che questa sia una delle scelte che la juventus farà nel breve periodo bremer pau torres sono questi qua i nomi la mia sensazione che noi bremer non lo prendiamo è la mia prima e c'è la mia prima scelta la prima scelta di colpo gobo e bremer mi sorprenderebbe anche qua un inter beffata perché la juventus non è beffata perché questa trattativa l'inter ci lavora da già da un secolo fa l'ha impostata da tantissimo mi stupirebbe vedere la juve fregare il giocatore all'inter mi farebbe anche godere un pochettino perché ovviamente c'è la rivalità sportiva e le cose di pancia ragazzi sono belle anche il sale il pepe del tifo per l'inter se prende fa un gran colpo secondo me fa un gran colpo e quindi nulla da dire per me comunque rimane in vantaggio l'inter però vediamo un po l'evoluzione della situazione perché ripeto il mercato cessioni sblocca quella in entrata dobbiamo partire ripeto sempre da lontano perché il bayern c'è delle vandoschi offerta ricca a del hit e la juventus in contemporanea quasi in maniera simultanea andrà a prendere l'altro difensore centrale pao torres bremer chi che sia questo accadrà io sono più fiducioso su pao torres barra gabriel credo che questi siano profili più prendibili perché secondo me non c'è tutta questa concorrenza perché anche dal punto di vista economico la juventus può riuscire nell'impresa di prendere questi due o uno l'altro ecco questo di questi difensori bremer ripeto secondo me ci sono più steppe più difficoltà da superare dall'accordo con cairo che secondo me la juventus lo trova anche facilmente sono 40 milioni la juve 40 milioni glieli da anche il punto è far leva sulla volontà del ragazzo perché comunque l'inter a mio parere cederà a screener e allo stesso tempo con tutta la calma del mondo poi andrà a chiudere su bremer quindi se in questo senso la dirigenza nera azzurra darà le assicurazioni a bremer bremer secondo me dirà la juve no grazie è onorato ma ho dato già la parola all'inter stanno risolvendo questa situazione poi andrò da loro quindi vedremo che cosa succederà per quanto riguarda ripeto pautor se la juve è sempre in contatto a quanto pare vediamo con l'interesse del giocatore col giocatore vediamo cosa succede ripeto saranno giorni caldi perché secondo me in questi giorni la cosa svolterà oggi il barcellona ha fatto questa offerta da 50 milioni offerta che il bayern è disposto insomma ad accettare e da lì secondo me parterà partirà la controffensiva per delict quindi aspettiamoci di tutto un peccato perderemo a test delict mi spiace un sacco io ho due sue maglie mi pare super autentic eccetera però non mi pento della scelta è stato comunque un giocatore della juve io l'ho apprezzato ne ho apprezzato le dotti nonostante adesso tanti lo rinneghino ed è un atteggiamento che a me non piace perché sono scelto di carriera dobbiamo abituarci a questa andazzo qua dei calciatori per cui non è che quando da noi sembriamo veramente i napoletani ai tifosi del napoli e tifosi del napoli quando i giocatori sono da loro oro colato sti giocatori guai a chi glieli tocca cambiano squadra o diventano dei bidoni o erano delle cacchie viventi o insomma a me questo atteggiamento non piace bisogna avere una certa onestà intellettuale nel dire che stiamo perdendo un gran giocatore e che se anche ha fatto errori in carriera alla juve in questi anni sono errori perché è giusto che un giocatore di 20 21 anni 22 anni in cui ruolo molto delicato faccia anche degli errori ma sfido chiunque di voi a trovare un parietà a quel livello fatto una fatica enorme probabilmente non ci capirete un nome bisogna avere l'onestà di dire che stiamo perdendo un gran giocatore e che sarà difficile sostituirlo perché pensare che arrivi paul torres e adesso abbiamo in casa bucacchio ne so beckenbauer mi sembra una roba esagerata che ne so turam il nuovo cannavaro anche meno cioè un giocatore bravo ma deve dimostrare ma iden vale anche per bremer arrivasse bremer a me piace ma non è che sta arrivando il salvatore della patria è un giocatore secondo me meno forte di matthias de ligt nonostante l'anno scorso abbia fatto meglio di matthias però come valori assoluti secondo me de ligt chi dà la polvere è a tre anni in meno e quindi bisogna andare cauti su questa tipologia di commenti ripeto la mia sensazione che arrivi uno tra paul torres e gabriel voi direte grazie al cazzo è però è così la situazione è questa e vi dico attenzione a farti a farvi sballonzolare un pochettino dalle dalle notizie è normale farsi sballonzolare ma poi bisogna mettere un po la testina a ragionare un pochettino su quello che sta succedendo per cercare di capire insomma quali fonti affidarsi io vi dico mi sto affidando molto a romeo vedo giovani albanese molto sul pezzo anche sulle notizie di marzo quest'anno no non ci siamo la verità il buon gianlucca io l'apprezzo un sacco dal punto di vista professionale mi sembra veramente una persona in gambissima però non ci siamo pedula ni c'è non c'è anche lui nico schida sempre sul pezzo secondo me lo stesso non sta lavorando male vediamo vediamo cosa succederà ragazzi sarà un weekend bollente attenzione a quel che succede in casa bayern perché poi parte l'effetto domino signori questo è tutto brevi aggiornamenti di mercato brevi pensieri poi vediamo un po l'andazzo vi auguro un buon weekend non farò live stasera non l'ho fatta neanche ieri perché ho bisogno di riposare e poi però riprenderemo da domenica sera barra lunedì alla grande alla grande se ci sono novità e sarò in giro comunque fare il video non vi lascio senza vita anche domani vediamo cosa si sviluppa questa in questa giornata e niente vi mando un fortissimo abbraccio e sempre fino alla fine forza juve a a proposito ragazzi ho fatto un tweet sulla superlega se non mi seguite su twitter andatela a mettere il il follow al sottoscritto allora christian belli pagina di facebook ha parlato molto bene secondo me della situazione udienze alla corte di giustizia europea non c'è ancora una sentenza la sentenza probabilmente arriverà o a fine anno o a inizio anno prossimo 2023 quindi c'è ancora del tempo in questo momento tutte le parti stanno esponendo le proprie tesi da una parte la superlega da una parte l'uefa e quindi c'è tutto questo discorso però la situazione è questa non si parla della bontà del progetto di per sé si parla della fattibilità di un progetto alternativo all'uefa perché è questo il punto cruciale che bisogna capire della situazione corte di giustizia europea perché si è andati là perché l'uefa sta abusando di una posizione dominante perché sta vietando ad altre entità di poter fare un torneo alternativo alla champions league e nei modi e nei metodi nelle minacce nelle minacce di ripercussioni nei confronti dei calciatori delle società eccetera è lì che sta l'abuso insomma della posizione dominante dell'uefa oltretutto da poco è uscita una circolare che vincola chiunque a chiedere autorizzazione all'uefa per la creazione di nuove competizioni quindi questo è il dibattito siccome l'unione europea garantisce il diritto alla concorrenza è normale che la cosa si dibatte in questo senso poi ripeto come ha detto il buono a ramanini dopo c'è un vuoto normativo e probabilmente la politica cercherà di adempiere qualcuno ha detto che un tribunale politico di una cazzata perché nella legge bosman tutti erano contro bosman e alla fine bosman con cui avvocato dupont per esempio che l'avvocato della superlega era presente in quella sentenza ha ribaltato tutto hanno svoltato completamente il calcio hanno cambiato lo scenario calcistico del tempo troviamo i risultati no della sentenza bosman ancora oggi con il traffico del talento di calciatori vedremo cosa succederà perché questa sentenza della corte di giustizia europea crea dei precedenti nel bene nel male nel senso che ci sono già competizioni che hanno avuto quel tipo di percorso basti pensare all'eurolega al golf addirittura il patinaggio sul ghiaccio e quindi ci sono già dei precedenti e l'indirizzo è chiaro che l'uefa ha sicuramente abusato della posizione dominante c'è da capire però come tutelare la piramide solidale del calcio e la piramide del calcio stessa vedremo come interverrà la politica l'idea che mi sono fatto ragazzi è che alla fine si arriverà un compromesso tra uefa e organizzatore della superlega compromesso che probabilmente richiederà la testa di alexandre seferin perché per i modi e come ha parlato della superlega non credo che sia l'interlocutore adatto vedremo però ragazzi sarà sicuramente interessante seguire questa vicenda magari se volete approfondisco con con il buon Armanini faremo un video a parte magari con qualche altro esperto e cerchiamo di raccogliere più informazioni possibili e renderle anche semplici perché su certe materie si va nello specifico nel dettaglio di alcune norme eccetera insomma mi impegnerò per la creazione di questo contenuto breve parentesi sulla superlega comunque seguite Armanini su youtube perché ne parla in maniera molto semplice ed è comprensibile anche dagli asini nel modo che ha di spiegarlo perché comunque io ripeto sono un asino in certe materie sentire certe spiegazioni da parte di Armanini che secondo me dal punto di vista culturale e avanti specie su business queste cose qua veramente ve lo consiglio un abbraccio ragazzi